No 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 Mancava un po' di cringy in questo canale, eh? Eh? Mancava Signori TG Poli Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale Come state amici? Tutto bene? Fa molto caldo, io sono in camicia ed è il 20 agosto Sono le 3 di pomeriggio quindi fa il caldo migliore che voi possiate raggiungere Ma oggi arriviamo con un nuovo format L'avevo già annunciato su Instagram e mi ha dato l'idea proprio Tommy che saluto Ovvero ragazzi quello di portare una cosa che faccio spesso durante le mie live Prima di iniziare a giocare vi vado sempre a dire Avete letto la notizia, la novità riguardante Hearthstone, cosa è successo, i nerf, i buff Quello che dicono gli sviluppatori Perché in realtà la gente è convinta che bilizzare lavori una volta ogni 4 mesi Cosa in realtà abbastanza probabile Però in realtà molto spesso, una volta a settimana c'è uno sviluppatore che si chiama Dean Ayala Che rilascia un sacco di informazioni riguardo le cose che arriveranno su Hearthstone O banalmente anche tutte cose attuali Cioè quello che sta succedendo adesso, cosa hanno intenzione di fare, mini set, nuove espansioni, nuove carte, nerf, buff Ed è figo quindi rimanere aggiornati riguardo a quelle che sono le novità di Hearthstone Ovviamente questi video non possono uscire ogni giorno, ne uscirà uno a settimana È un po' cringe il fattore TG Poli Ma è giusto che ci sia un po' di cringe Andrò a leggere vari articoli di informazioni in modo da tenervi aggiornati Mi farebbe molto molto piacere Primo se lasciate un like, lo apprezzerei un sacco Seconda cosa, se mi dite nei commenti cosa ne pensate Sia del format in sé, sia delle notizie che sto per andare a darvi Anche perché appunto la stragrande maggioranza delle cose sono idee che Blizzard propone Ed è bello avere un feedback In modo da poi che Blizzard sa se quello che propongono è un'idea intelligente o no Prima notizia del giorno, innanzitutto per specifico che utilizzerò vari siti di informazione Il principale tra questi sarà DailyQuest che traducono sempre tutto E ringrazio, lascio tutti i link degli articoli in descrizione se volete approfondire per i cazzi vostri Il video non voglio che duri tanto, voglio darvi semplicemente un po' di dritte Prima notizia del giorno ragazzi, sempre nel Q&A che svolge il signor Dean Ayala su Twitter È un'idea di voler bannare una classe in modalità classificata Andiamo a leggere cosa ha detto lo sviluppatore nello specifico Una delle richieste più vecchie dei giocatori di Arston è quella di poter bannare una classe in modalità classificata In maniera da non incontrarla mai A quanto pare è qualcosa che il team sta seriamente considerando Ma quando avverrà, nessuna data, sarà per un periodo illimitato per testare se effettivamente rende il gioco migliore Questa è una grande cosa ragazzi, questa sarebbe una grande introduzione per Arston Anche per un breve periodo Per esempio vai in ladder, sai che il tuo mazzo perde malissimo da un priest Da qualsiasi versione di prete perché ha delle carte che rovinano la tua esperienza di gioco E magari c'è la possibilità di bannare quella classe per fare in modo che nelle tue ore di ranking non la incontrerai mai È un'idea molto bella questa di Blizzard, è una grande idea È un'idea che io mi auguro di vedere in futuro Anche perché sarebbe qualcosa che migliorerebbe sicuramente Anche se appunto per un sol periodo L'esperienza di gioco dal giocatore Cioè se mi vado a bannare una classe che so che mi dà fastidio Inevitabilmente andrò a divertirmi di più È anche vero che bisognerebbe bilanciarlo bene Per fare in modo che poi non ci sia il meta Dove la classe viene bannata E il giocatore che ha solo quel mazzo Non potrà mai giocare Quindi è una cosa che andrebbe fatta bene Ma già il fatto che venga proposta Come cosa da parte di Blizzard E già appunto è una cosa sulla quale si stanno Seriamente prendendo in considerazione Seriamente lavorando È una cosa che sicuramente non ci può Altro che dispiacere Seconda notizia del giorno ragazzi Dato che questo video lo registro il 20 Ovviamente li registriamo Cerchiamo di farli uscire il prima possibile Ovviamente saranno sempre un po' in delay Quindi magari Blizzard ha già agito Rispetto a quello che vi sto dicendo Ma è la popolarità di determinati mazzi Per quanto riguarda la ladder Leggiamo insieme Siamo hanno parlato molto della popolarità dei mazzi combo e aggro Affrontata anche la settimana scorsa Con una fetta di giocatori che si chiede sempre Quale sia l'approccio del team di sviluppo a proposito A quanto pare il vero problema per il team 5 È la velocità di certe strategie E la loro popolarità Non il loro stile di gioco in quanto tale Cosa significa? Che a Blizzard non sta sul cazzo Che magari si arrivino Arrivino 40 danni direttamente dalla mano Sta sul cazzo che Quei 40 danni direttamente dalla mano Li gioca uno streamer E dopo a macchia d'olio Ci fanno a rendersi pubbliche su tutto il territorio Della community di Hearthstone E' una cosa che a Blizzard questa non piace La ripetitività è una cosa che non è mai piaciuta E se ci fate caso ha sempre tentato Per quanto possibile A limitare l'utilizzo di determinate cose O a ridurne la potenza Con piccoli nerf o buff ad altre classi Ci sono riusciti in un passato Magari ci riusciranno anche in un futuro E' una cosa sulla quale speriamo che Blizzard continui a monitorare Sappiamo che hanno tutti i loro mega numeroni Riguardanti quelli che sono la popolarità dei mazzi Sia combo che aggro che OTK E appunto il fatto che anche solo dei nerf Possono impattare su quelli che sono Determinati cambiamenti sul meta Che dopo andiamo anche a vedere Infine alla fine del video Vediamo anche quali sono i migliori mazzi E i win rate attuali In modo da sapere quello che potete craftare E' una cosa che speriamo porti bene Nel corso del tempo Piccolo aggiornamento Anche il responsabile dei duelli Ates Bayar Vabbè non so come cazzo si chiama Aveva dichiarato che col passare del tempo Tutti i set del gioco saranno aggiunti Alla modalità dei duelli Quindi senza rotazioni Come si farà a garantire la verità del corso del tempo In questo qui ne è intervenuto di nuovo Secondando speculazioni sui nuovi eroi e tesori arma Con i set standard E ritorno anche dei campioni troll nella sfida di Rastacan Questa è una piccola news invece per i giocatori di duelli Ci saranno in futuro degli eventi O delle cose esclusive Per i duelli Che ne renderanno il gioco più fresco Piccola notizia anche per chi gioca a questa modalità Altra notizia sempre di questo Q&A Si parla di nuove classi In Blizzard sappiamo che prima o poi andrà a introdurre delle nuove classi su Arston L'ha già fatto con il Demon Hunter E in futuro lo farà anche con altre classi Vediamo cosa dice in proposito di Nayala Che, piccola nota personale Lo dice molto spesso sta cosa della nuova classe Non vorrei che già nel 2022 Ci andremo ad approcciare a una nuova classe All'undicesima classe Vedremo, vedremo nel corso dei mesi Se venisse realizzata la classe del Cavaliere della Morte In Arston Argomento affrontato qui, ripeto in descrizione Cosa succederebbero gli effetti del Redelice ad Arfus? Probabilmente cambierebbero il testo Ma continuerebbero comunque a funzionare Come hanno sempre fatto In più, l'eroe titolare sarebbe probabilmente Arthas Riguarda questo in un vecchio Q&A Adesso purtroppo questo TG Poli è iniziato Già al 25esimo Q&A Però vi dico che Blizzard ha già pensato Sia una classe del Cavaliere della Morte Come appunto c'è su World of Warcraft Sia una classe del Monaco Ma non ha escluso il fatto che un giorno Magari l'undicesima classe Sia qualcosa di completamente nuovo Anche per World of Warcraft Quindi qualcosa di completamente nuovo Che potrebbe in qualche modo stupire positivamente o no Il meta e l'intero gioco di HS Speriamo chiaramente che l'introduzione di un'undicesima classe Arrivi quando è giusto che debba arrivare Ma che soprattutto sia fatta in modo corretto E non come invece è stato per il Cacciatore di Demoni Che sappiamo le prime settimane È stato qualcosa di veramente vergognoso Ancora due notizie riguardanti sempre il Q&A con Dina Yala Abbiamo ragazzi due diciamo hotfix O comunque due pensieri che Blizzard sta sviluppando Ovvero diversi giocatori vorrebbero che venisse introdotta in Hearthstone La regola per impedire gli sconti di mana Ad abbassare il costo delle carte sotto a un mana Come era già successa con Echo Cosa ne pensano gli sviluppatori? A Dina non piacerebbe Preferirebbe intervenire sui singoli casi Invece che creare una nuova regola Questa cosa qui in realtà è una cosa molto grave su HS Sappiamo spesso che purtroppo Quando arriva la discountata Poi arriva il turno con 40 carte giocate Tutte a zero mana Ed è una cosa piuttosto frustrante Perché dall'altra parte ti senti completamente inutile E sai di non poter far niente Di fronte a una pioggia di carte Tutte a zero mana È anche vero che generare una regola per sempre È difficile Probabilmente anche per il card design da parte di Blizzard Però andare a agire nei singoli casi Come è stato fatto appunto con Echo e Tagliotto O in altre situazioni È qualcosa che forse potremmo riuscire a vedere Nell'arco del futuro Quindi è una cosa che magari Blizzard un giorno introdurrà O sistemerà di caso in caso Altro piccolo idea che sta sviluppando Blizzard È quella che nella modalità battaglia I danni o prendibili Cioè i danni che puoi subire in un singolo turno Sia loccato a 15 Cioè sapete che ogni tanto su BG capita Che a turno 7 vi arrivano 26 croc Di uno che ha fatto l'aerollata della Madonna La tua run è completamente compromessa Andare a inserire un limite di 15 danni Significa che innanzitutto la partita durerebbe di più Ma secondariamente si ridurrebbe di gran lunga Quello che è l'effetto frustrazione Quando da una barca ti escono tre Elise E da 6 danni diventano 18 Ed è qualcosa che ovviamente andrebbe in qualche modo arginato Speriamo che venga introdotta una cosa simile Non 15 Ma una cosa simile per Battlegrounds Per fare in modo di non completamente buttare le partite Contro l'avversario che sta facendo la cosa Senza alcun senso Inoltre chiudiamo sempre questa sezione di notizie Con un'altra parte relativa a Battlegrounds Con l'introduzione dei cosmetici per la battaglia Gli extra non saranno più acquistabili nel negozio? No, rimarranno ancora per molto tempo Anche perché i cosmetici sono acquistati da nominanza di giocatori In più il team sta attivamente lavorando Per mostrare il proprio punteggio della battaglia nella lista amici Questa è una cosa che speriamo accada Un sacco di giocatori di Hearthstone Giocano ormai solo a Battlegrounds Ed è bello poter far vedere il proprio MMR di BG Invece che il rank 10 bronzo Di uno che si gioca solo a BG Invece si va a vedere Una cosa che sicuramente a livello social A livello di menu di amici Potrebbe far piacere a chi vuole flexare in faccia I propri punti su BG I propri punti in presa O tutti quello che si potrà far vedere Tramite questa meccanica Andiamo a vedere un paio di curiosità Sempre rilasciate dal signor Dean Ayala Riguardante sempre espansione Design Andiamo a leggerle molto rapidamente Quando si comincia a lavorare sul mini set Blizzard inizia a lavorare sul mini set Circa 10-12 settimane Dopo che si è cominciato a lavorare Sull'espansione Quindi esce l'espansione Preparano l'espansione Anzi dopo circa due mesi e mezzo Lavorano al mini set Una delle filosofie del design Che è cambiata più dall'inizio dell'Arston È che non si cerca più di creare servitori vanilla Come Yeti o Wargen Oh scusatemi Ho fatto un errore gigantesco Bensì che hanno avuto un ruolo Nelle conversazioni di sviluppatori in passato Oggi per una nuova carta Si cerca almeno un pubblico Che possa essere interessato Sta cosa qua secondo me È sicuramente un vantaggio La gente pensa che la carta Più sia semplice Più è bello No ragazzi Le carte devono avere un minimo di appeal L'Arston si è evoluto Nell'arco di questi 6-7 anni Ed è giusto Che le carte quando escano Abbiano tutte qualcosa da dire Sebbene nel piccolo Qualcosa a dire ce lo devono avere Collegata alla risposta precedente Come mai carte come Yeti e Crocolisco Sono rimaste nel set principale? Perché lo scopo del set È di introduzione per i nuovi giocatori Che deve essere importante Concentrarsi su una sola cosa alla volta Devono sapere e iniziare a giocare Il set principale Dobbiamo considerare che è Sia per noi che giochiamo da tanto Sia per chi si è appena Approciato al gioco in sé Sarebbe possibile mostrare le carte in mano Dell'avversario In casi senza amiguità Ad esempio uno scagliapene Già entrato in azione L'idea era stata discussa Tanti anni fa Ma forse adesso Se ne potrebbe riparlare Perché ridurrebbe la complessità Durante una partita Blizzard non gli piace Che noi utilizziamo altri mezzi Come per esempio Il deck tracker O altre cose Per vedere Quello che è stato tracciato Nel corso della partita Preferirebbero che si veda Tutto direttamente su HS È chiaro che Arston però Deve trovare un modo Per farlo in modo Consono E ben fatto Magic c'è riuscito Vediamo se magari Anche Arston un giorno Ce la farà Vabbè Poi abbiamo piccole notizie Riguardo al design Degli ambientazioni Credo che non vi interessino Ancora qui Credo che non Niente di interessante Andiamo a vedere Le ultime curiosità E poi passiamo al meta Quindi ai mazzi più forti Al win rate E a quello che vi conviene Giocare attualmente Ripeto Circa 20-22 agosto Quando dovrebbe uscire Questo video Curiosità Da una scala di una 10 Dine è contento 8.75 del lancio Dell'espansione È tanto ragazzi Io personalmente Sono addirittura Più contento Di un 8.75 Credo che si possa Tranquillamente arrivare A un 9 L'espansione è molto bella Ha un sacco di mazzi Veramente ci sono Un sacco di liste Performanti Sebbene adesso Vedrete che I numeri che vi sto Per mostrare Non sono proprio incoraggianti Vi garantisco Che è veramente Veramente Un lancio Figo Per un'espansione E poi altre piccole Curiosità La solita domanda Cosa faresti in Arston Se non avessi limiti Il signor Dean Volebbe lavorare A dei modelli 3D dei personaggi Un po' come quelli Che sono Le carte diamante Di Arston Sembrano quasi Dei modelli 3D E' chiaro che Se tu fai una cosa Del genere Un sacco di gente Si avvicinerebbe Di più Al gioco di carte Ma sarebbe anche Un lavoro Enorme Per Blizzard E' una cosa Che secondo me Non vedremo Tranquillamente mai Prima di chiudere ragazzi Andiamo a vedere Quello che è il meta In modo da darvi dei consigli Su quello che c'è da giocare In modo che sappiate Cosa giocare E quando Andiamo a vedere quindi Le statistiche Cosa dicono Molto bene Non c'è un primo episodio Di un TG Se non avviene anche La prima cagata Perché mi sono dimenticato Che proprio oggi Stamattina Era uscita un'altra notizia Della quale volevo parlarvi Che mi sono ovviamente dimenticato E questa cosa Ne ho bisogno assolutamente Anch'io Cioè fatelo sapere nei commenti E ripeto Lasciate un like Se vi piace il format Molto veloce E anche un commento Riguardo a questa idea Che vi sto per proporre Cioè Il signor Dina Yala Ha proprio chiesto Apertamente su Twitter Se l'idea di un evento Bonus Per delle classi In ladder È qualcosa di piacevole Andiamo a leggere In Constructed una classe Viene scelta come classe bonus Ci sono dieci classi Facciamo esempio Che sciamano Viene scelta come classe bonus Vincere le partite Con questa classe Ti dà il doppio esperienza E il doppio delle stelle Quindi molto più facile Rancare E molto più facile Guadagnare gold E farmare esperienza Dopo tre vittorie Con quella classe Ne passa un'altra Il bonus Va su un'altra classe In modo da invitarti A giocare La nuova classe È un'idea che potrebbe piacere È un'idea che potrebbe non piacere Personalmente Dico la mia opinione E vi ripeto Voglio sapere anche la vostra È un'idea che mi piace molto Inviterebbe molto di più I player Magari più free to play A giocare nuovi mazzi O a cambiare strategie Pur di ottenere Questo bonus D'esperienza Che gli permetterebbe Di avere più gold E completare prima Il battle pass Che sappiamo Essere il modo principale Di guadagno Di valuta Su Hearthstone È una cosa Che si potrebbe introdurre Magari anche solo Per un mese Per testare come funziona Sarebbe figo Vederla insieme Alla notizia Che abbiamo visto prima Cioè al ban Delle classi Se ne banna una Una al bonus E si cerca di costruire Una sorta di Non torneo Ma una sorta di limitatore Cioè io sono invitato A giocare la classe Con il bonus E banno il priest Che è la classe Che invece più mi dà fastidio Giocando la classe Con il bonus Ripeto il link in descrizione Fatemi sapere cosa ne pensate Nei commenti Perché è un'idea Che secondo me Potrebbe dare Veramente Veramente tanto Molto bene ragazzi Adesso ufficialmente Possiamo passare Alla parte riguardante Il meta Ovviamente mi appoggio Ad Hearthstone Replay Per questo Vi dico che Non sono al 100% Affidabili Hearthstone Replay Perché prende ovviamente Tutti i giocatori di Hearthstone Come vedete oggi Sono state sviluppate 920.000 partite Negli ultimi 7 giorni Circa 11 milioni di game Quindi lui prende la media Ma ovviamente di qualsiasi rank Da bronzo A legend Sappiamo che la gran parte Della gente però Non è a legend Ed è lì dove in realtà Il meta Piuttosto è Abbastanza solido Andiamo a vedere infatti Che attualmente Shaman Sembra dominare Shaman domina con due versioni Quest Shaman Quindi la missione Dello Shaman E anche con L'Elemental Con Doomhammer Molto forte perché Smorca parecchio E soprattutto contrasta Stregone e Mage Che sono scesi parecchio Grazie ai nerf Subito sotto nella medaglia d'argento Va a paladino Nella versione handbuff Handbuff con i segreti Si gioca Omayog Si gioca il cavallino Si gioca la spada Per andare a contrastare I mazzi con la quest E lo stesso Shaman Perché se a turno 1 Giochiamo Omayog A turno 1 Shaman Dovrà fare la quest E non potrà permettersi Di rischiare di perderla E dovrà per forza Spercare spesso la coin E infine in terza posizione Cacciatore Con il più del 50% Di winrate Ovviamente la versione Face Hunter Dritta per dritta in testa Perché non dà tempo A mazzi come Stregone Mage e Druid Di sviluppare qualcosa Ripeto Non sono al 100% Attendibili Questi winrate Anzi Secondo me Sono abbastanza Bassi Secondo me Stregone sicuramente Sta sopra il 50% C'è da dire che Stregone è un mazzo Difficile da giocare Ed è normale Che chi lo gioca Ad argento Non lo sa giocare Come chi lo gioca Ad i legend E quindi la media Purtroppo abbassa Il winrate Inevitabilmente Questi sono i winrate Più alti Per la stragrande Maggioranza della gente Non fidatevi al 100% Metteteci anche Del vostro Andiamo a vedere infine Quali sono i migliori mazzi Sempre secondo Hearthstone Meta Replays Come vi ho detto Appunto Il Secret Paladin Con Omayog Martello di Naur Varian Bla 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 Elemental Shaman Proprio puro Elemental Shaman Ci sto arrancando Davvero tanto E sembra un mazzo Davvero davvero solido Ve lo straconsiglio D'essere giocato Infine a tier 2 Abbiamo una valanga Di mazzi Andiamo a vederli rapidamente Un hand buff Pala Dura e puro Con l'arma Con i vari Tutte le varie parti Relative ai buff Agro Elemental Shaman Appunto Con Doomhammer E un Diatrattle Demon Hunter Molto performante Che vi consiglio Di giocare Molto economico Dovrebbe avere tipo Due leggendarie E spacca un sacco il culo Shadow Priest Uscirà il video Nei prossimi giorni Sul canale E Mena Come un falegname Assolutamente Da giocare anche questo Diatrattle Demon Hunter Col fell Non mi fa impazzire Va provato Ditemi la vostra Se lo giocate Quest Shaman Appena visto Druid Agro Classicone Un po' Con la meccanica Taunt Un po' Si incastra Ma il suo Lo riesce a fare Face Hunter Appena visto Quest Lock Nella versione Classica Zo Che però ha perso Prevede il nerf A gigante E a Dark Glare Quest Warrior Lasciate completamente Perdere questo qua Non so chi abbia preso Queste statistiche Ma da qui in poi Ecco iniziate Un attimo A pensare Che forse i mazzi veri Sono questi Come vedete Abbiamo Pala Abbiamo Shaman Abbiamo più versioni di Pala Più versioni di Shaman Abbiamo DH Abbiamo Face Face Priest Abbiamo un Deatrattle Abbiamo una Quest Insomma c'è un meta Abbastanza vario Che a me personalmente Non sta dispiacendo affatto Vi lascio il link In descrizioni Così sapete Cosa craftarvi Cosa no Da un sito Che prende La stragrande maggioranza Delle statistiche Al 100% Metteteci sempre del vostro Che non sbaglierete mai Amici miei Questa era la fine Del primo episodio Del TG Poli Sebbene sia Assi cringe È giusto chiamarlo In questo modo Fatemi sapere cosa ne pensate Sia del format Sia in sé Di quello che abbiamo visto Quest'oggi Noi ci vediamo Con un prossimo video Nei prossimi giorni E la settimana prossima Con un altro video A tema informazioni Di quello che vedremo Di quello che dirà Dean Riguardo alle novità Le cose che vogliono introdurre E a eventuali nerf E buff Che ogni tanto se ne discute Fatemi sapere la vostra Riguardo a tutte le notizie Che ci tengo Perché voglio leggere Tutti i commenti E basta Giobbo è uno stronzo E io vi auguro Una buona serata Un buon pomeriggio Un buongiorno Non so quando avete visto il video Nel dubbio Sti cazzi Un buon pomeriggio 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 Un buon pomeriggio